Io credo che l'atteggiamento positivo, il pensiero positivo sia il 50% dello stare bene. Io ho imparato a lasciare che la vita accada, ho imparato a vivere il qui e ora, proprio vivere alla giornata e godere proprio delle piccole cose che non sono piccole cose finché non ti rendi conto che potresti non averle, come la passeggiata a lungomare, un caffè con le amiche, il giocare con la nipotina, tutte cose che diamo un po' per scontate ma che scontate non sono per il malato che sa che non potrebbe non avere tempo. Quindi penso che il pensiero positivo sia importantissimo. Ovviamente ci sono anche i giorni negativi, i post chemio sono difficili e in quei giorni lascio a secondo il mio corpo, non vuole fare nulla, non faccio nulla, mi rilasso, mi coccolo e mi faccio coccolare. Ho la fortuna di avere un marito meraviglioso, soprannominato non a caso Sant'Uomo, ci sarà un motivo. in quei giorni che sono un po' così e quando si affaccia soprattutto il pensiero triste, il pensiero della malattia, perché c'è da dire che quando sto bene io mi dimentico di essere malata, faccio delle cose proprio normalissime, però nei giorni invece che si sta poco bene, allora affiora questo pensiero negativo, faccio il possibile per non pensarci, per scacciarlo. E' proprio una forza che mi dedico a qualche cosa, una telefonata, un'amica simpatica, un film comico, un qualche cosa che mi distorga da questo pensiero e poi penso che domani è un altro giorno, quindi sicuramente sarà migliore di oggi e quindi passa la giornata negativa, la faccio passare in qualche modo. Grazie a tutti.